Sopo è ormai da qualche anno e è entrato nel mercato del cloud, nel mercato della sicurezza nel cloud legato ad una piattaforma unica di gestione che è molto particolare perché permette di gestire da questa unica piattaforma in cloud tutti i vari servizi di sicurezza che normalmente Sofos offre tuttora ed offriva come linea verticale di prodotti, quindi faccio un esempio, la parte di email, mail protection, la parte di endpoint protection, la parte di web protection eccetera eccetera, quindi tutte queste linee di prodotti rimangono ma parallelamente abbiamo una piattaforma chiamata Sofos Central che permette di gestire la sicurezza totalmente da un'unica piattaforma sempre quindi disponibile per chi è in cloud e ci permette tra l'altro di gestire il cosiddetto paradigma della sicurezza sincronizzata o synchronized security, cioè il fatto di poter mettere in comunicazione di eventi i vari aspetti della sicurezza. Faccio un esempio, attualmente abbiamo la parte di endpoint protection e la parte di firewall che possono comunicare attraverso il cloud e si possono scambiare le informazioni di sicurezza. Questo a che serve? Serve per dare delle operazioni automatiche di remediation, quindi operazioni automatiche per gestire in maniera automatica e immediata i problemi di sicurezza che si verificano all'interno della infrastruttura di rete. Questo tutto tramite piattaforma in cloud. Infine l'altro aspetto importante del cloud a cui siamo molto legati è la parte di Advanced Threat Protection, cioè il fatto di poter gestire le vulnerabilità a zero day o comunque gli attacchi tramite una soluzione in cloud di tipo sandbox e questo sandbox, questa sandbox chiamata Sandstorm, è installabile nel senso attivabile come servizio cloud all'interno delle nostre soluzioni di gateway, di firewall, di next generation firewall e di web protection, email protection. Il ruolo dei partner è un ruolo fondamentale in Sophos perché Sophos lavora 100% con il canale, quindi è fondamentale anche per quanto riguarda la piattaforma di Sophos Central, il cloud e a maggior ragione la parte di Sophos Central che si declina in diversi aspetti, che è la parte amministrativa sulle soluzioni e la parte invece di gestione dei clienti lato partner attraverso il portale dei partner chiamato Partner Portal, permette al partner di poter gestire i propri clienti e gestire le licenze che vengono vendute ai clienti in una piattaforma unica e questo è anche un vantaggio perché si sa immediatamente quali sono le scadenze, quali sono i prodotti venduti e anche quali prodotti si possono ancora vendere, quindi quale soluzioni si può ancora offrire al cliente per ampliare l'offerta di sicurezza che Sophos offre. Grazie a tutti.